Siamo onorati di essere all'interno, di avere questo piazzamento così importante per noi, per la nostra regione, per il nostro paese. Sì, è un anno molto importante. Ci stanno premiando delle scelte che sono quelle della condivisione con i ragazzi della cucina, della sala, della crescita, del servizio e quindi tutto quello che abbiamo messo in piano da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte, sta crescendo, sta crescendo insieme a noi. È un'unione di intenti, c'è tanto studio con l'attaccamento sempre a quello che è la nostra regione, che è il nostro paese, la nostra area prima, il mare, cioè il concetto di mare. Più che un ristorante di pesce, è un ristorante di mare. L'anno che viene chiedo ancora tanto coraggio, tanta passione e tanta pazienza, perché bisogna avere coraggio per affrontare le proprie scelte, le proprie idee, passione per portarle avanti e pazienza per aspettare che si realizzino. Quindi questi sono i tre must che ci possono portare avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.